Il Partito Comunista Il Partito Comunista Il Partito Comunista Il Partito Comunista Nel 2010, per reprimere le credenze religiose, il PCC ha usato TV, radio e altri media per diffamare la chiesa di Dio Onnipotente, arrestando i cristiani. A quel punto, mio marito ha iniziato a ostacolare la mia fede. Un giorno mi ha detto, Il Partito dice che i credenti abbandonano le loro famiglie. Rinuncia alla tua fede. Se ti arrestano, la nostra famiglia sarà distrutta. Non fa lo stesso se andiamo in chiesa come facevamo prima? Io ho risposto, Mi hai mai visto abbandonare la nostra famiglia? Sono tutte bugie inventate per opprimere la chiesa di Dio Onnipotente. Sì. Come puoi credere alle loro menzogne? Dio è tornato e sta compiendo una nuova opera. Chi continua a frequentare le vecchie chiese non acquisirà la verità e nemmeno la vita. Sono certa che Dio Onnipotente è il Signore Gesù ritornato e sto seguendo le Sue urme. Non abbandonerò la vera via. Vedendo la mia determinazione, Lui mi ha ammonita. Non puoi comunque mantenere la tua fede né andare alle riunioni. Da allora, di nascosto, leggevo le parole di Dio e condividevo il Vangelo con gli altri all'insaputa di mio marito. Una sera del 2012, dopo una riunione, ho trovato mio marito seduto all'ingresso del piano inferiore. Quando mi ha vista entrare, mi ha atterrata con una raffica di calci e pugni. Riuscita a liberarmi, sono corsa al piano di sopra, ma Lui mi ha raggiunta, mi ha colpita in faccia e mi ha detto con ferocia, ti proibisco di partecipare alle riunioni. Vedevo le stelle e sanguinavo dagli angoli della bocca. Che cosa incredibile! Già. In dieci anni di matrimonio, non mi aveva mai picchiata. Tanta violenza solo per la mia fede non l'avrei mai immaginata. In quel momento, mi sentivo un po' debole e spaventata. Ho pensato, dovrei abbandonare le riunioni per un po', nel caso mi picchiassi di nuovo. Sapevo di non essere nella condizione giusta. Così ho pregato Dio, chiedendogli fede e forza. Poi mi sono ricordata di queste sue parole. Non dovresti avere timori. Davanti alle difficoltà, rimani saldo dinnanzi a me, senza impedimenti, in modo che la mia volontà si compia. È questo il tuo dovere. Non avere paura. Con il mio sostegno, chi potrebbe mai ostacolarti? Non scordarlo, tutto accade secondo le mie buone intenzioni e tutto è sotto la mia osservazione. Riesci a seguire la mia parola in ogni tua frase e azione? Di fronte alle prove del fuoco, ti inginocchierai invocando o ti rannicchierai incapace di procedere? Amen. Amen. Sì, tutto è assolutamente nelle mani di Dio, senza il suo permesso, mio marito non poteva farmi nulla. Dio aveva consentito che ciò mi accadesse quel giorno. Se avessi abbandonato il mio dovere per paura, di urla e per cosse, non avrei perso la mia testimonianza? Sì. Mio marito mi opprimeva, ma dovevo restare salda. Ho continuato ad andare alle riunioni come sempre. Di fronte alle oppressioni, dobbiamo pregare, affidarci a Dio e leggere le Sue parole per avere fede e forza. Sì. Assolutamente sì. Alla fine del 2012, l'oppressione verso la Chiesa di Dio Onnipotente si è inasprita di più. Il PCC reprimeva gli eletti di Dio su larga scala. Un giorno, sono stata arrestata insieme ad altri durante una riunione. Mi hanno trattenuta per dieci giorni per aver turbato l'ordine sociale. Una volta rilasciata, mio marito mi ha detto, ti rendi conto? Al lavoro mi hanno chiesto se ti hanno arrestata per la tua fede. Non riesco a guardarli in faccia. È così umiliante. Gli ho risposto, avere fede è giusto e naturale. Condividere il Vangelo è una cosa onorevole. È il partito che è malvagio insistendo nel perseguitare i cristiani. La vera via è sempre stata perseguitata. Chi la segue viene perseguitato dalle forze di Satana. Da sempre i santi sono arrestati per aver condiviso il Vangelo e testimoniato Dio. Esatto. Lui ha risposto con stizza. Quella minaccia per farmi rinunciare alla mia fede mi ha irritata e paralizzata. A causa dell'oppressione del partito avrebbe gettato via oltre dieci anni di unione. Le nostre figlie avrebbero di certo sofferto del divorzio. Non volevo farlo, ma non volevo tradire Dio e perdere la possibilità di essere salvata. Non sapevo come superare quella situazione. Ho pregato Dio chiedendogli di guidarmi. Ho ricordato queste Sue parole. In ogni fase dell'opera che Dio compie negli uomini, quanto accade sembra che venga da un'interazione tra individui, da interferenze o disposizioni umane. Ma dietro c'è una scommessa che Satana fa con Dio, che richiede che le persone restino salde nel testimoniare per Dio. Pensate a quando Giobbe fu messo alla prova. Allora Satana stava scommettendo contro Dio e ciò che accadde a Giobbe fu dovuto all'intervento degli uomini. Dietro ogni fase dell'opera che Dio compie in voi, vi è la scommessa di Satana con Dio. Dietro ogni cosa vi è una battaglia. Amen. Grazie a queste parole, ho visto che in apparenza era mio marito a opprimermi, ma in realtà era Satana che lo stava usando per ostacolarmi, costringermi a tradire Dio e farmi perdere la mia possibilità di salvezza. Non potevo permettere che ci riuscisse. La guida di Dio ci permette di discernere i tranelli di Satana. E' vero. Mio marito mi ostacolava solo perché credeva alle dicerie del PCC. Se gli avessi esposto le loro bugie, forse avrebbe capito e avrebbe smesso di opprimermi. Così gli ho detto, le blasfemie del partito sulla chiesa di Dio Onnipotente sono solo voci inventate. Come giornalista, non conosci la vera storia delle fake news diffuse dal partito? Non dici sempre che non si può prestare fede al partito? Chi tra i credenti in Dio Onnipotente ha mai abbandonato la famiglia? Io ho fede da anni. Non mi prendo cura dei nostri genitori e delle nostre figlie. Non potendo confutarmi, si è limitato a dire «Vedo che sei irremovibile e va bene, credi pure nel tuo Dio». E se ne è andato sbattendo la porta. Dopodiché, con mia sorpresa, è andato in tribunale per ratificare il divorzio. Il giudice ha stabilito la mediazione. Mio marito mi ha tolto il banco, ma te le carte di credito. E saltava il lavoro per tenermi d'occhio, così non potevo andare alle riunioni né fare il mio dovere. Un giorno, il capovillaggio della nostra città ci ha detto che la polizia lo aveva avvisato di assicurarsi che non diffondessi il Vangelo e che mio marito mi tenesse d'occhio. Se fossi stata arrestata, sarebbero stati tutti coinvolti. Alla notizia, mio marito si è accanito ancora di più su di me. Una volta, io e mia suocera stavamo condividendo sulle parole di Dio. Lui ci ha sentite e si è precipitato nella stanza urlandomi «Continui ad avere fede. Pensi solo a te stessa e non a me o alle nostre figlie. Se ti arrestano, verremo coinvolti tutti». E mentre lo diceva, mi picchiava. Le bambine erano così spaventate che non osavano uscire dalle loro camere, mentre mia suocera piangeva di tristezza. Ero così indignata in quel momento. Solo perché avevo fede, il partito stava minacciando la mia famiglia per ostacolarmi. E questo spaventava mia suocera anziana e le mie figlie. Una famiglia felice, ormai ridotta così. Mi sentivo tanto triste e sconsolata. Era tutta opera del partito. Certo. Mio marito usava la mia fede come pretesto per litigare. Non potevo svolgere il mio dovere. Leggevo le parole di Dio quando Lui non era in casa. Mi mancavano i giorni in cui potevo riunirmi con i fratelli e compiere il mio dovere. Mentre ora la mia casa era diventata una prigione. Da due mesi tolleravo i rimproveri di mio marito ogni giorno. Mi sentivo davvero infelice e depressa. Non sapevo quando sarebbe finita. Al colmo della disperazione, ho detto una preghiera. Dio Onnipotente, provo un dolore e una sofferenza indicibili. Non so come superare questa situazione. Ti prego, illumina mi affinché capisca la Tua volontà. Dopo aver pregato, ho letto le parole di Dio. Dio Onnipotente dice... Da migliaia di anni, questa è terra del sudiciume. È insopportabilmente sporca. La disperazione abbonda. I fantasmi scorrazzano in ogni dove, illudendo e ingannando, muovendo accuse prive di fondamento, ruzzi e crudeli, mentre calpestano questa città fantasma, disseminandola di cadaveri. Il puzzo di putrefazione copre la terra e pervade l'aria, e la sorveglianza è strettissima. Chi riesce a vedere il mondo al di là del cielo? Il diavolo si avvinghia stretto a tutto il corpo dell'uomo. Gli cala un velo su entrambi gli occhi, e gli sigilla ermeticamente le labbra. Il re dei demoni, imperversa da diverse migliaia di anni, e ancora oggi, tiene sotto stretta sorveglianza la città fantasma, come se fosse un impenetrabile palazzo di demoni. Questo branco di cani da guardia, nel frattempo, scruta il territorio attorno a sé con occhi sgranati e torvi, col terrore che Dio lo colga di sorpresa e lo spazi via, lasciandolo privo di un luogo dove vivere felice e in pace. Come può la popolazione di una città fantasma come questa aver mai visto Dio? Hanno mai goduto dell'amabilità e dell'amorevolezza di Dio? Cosa capiscono loro delle questioni del mondo umano? Chi di loro è in grado di comprendere l'urgente volontà di Dio? D'esta poca meraviglia, allora che Dio incarnato rimanga completamente nascosto. In una società di tenebra come questa, dove i demoni sono spietati e disumani, come potrebbe il re dei demoni, che uccide gli uomini senza battere ciglio, tollerare l'esistenza di un Dio che è amabile, gentile e anche santo? Come potrebbe applaudire e festeggiare l'avvento di Dio? Sono dei leccapiedi. Ripagano la gentilezza con l'odio. Da lungo tempo hanno iniziato a trattare Dio come un nemico. Lo offendono. Sono feroci oltre ogni limite. Non hanno il minimo riguardo per Dio. Devastano e saccheggiano. Hanno perso del tutto la coscienza. Contrastano ogni forma di coscienza. E con la tentazione inducono gli innocenti all'insensatezza. Antenati dei tempi antichi, amati condottieri, si oppongono tutti a Dio. La loro intromissione ha lasciato tutto ciò che è sotto il cielo in uno stato di tenebra e caos. Libertà religiosa, i diritti e interessi legittimi dei cittadini sono tutti trucchi per coprire il peccato. Amen. Le parole di Dio mi hanno mostrato che il partito è un'incarnazione di Satana, un demone sulla terra. Esteriormente permette la libertà di religione, ma in realtà si oppone a Dio e tormenta i Suoi eletti. È vero. Negli ultimi giorni, Dio esprime le verità per salvare l'umanità. Il partito teme che, leggendo le parole di Dio, tutti capiranno la verità e, visto il Suo volto demoniaco, Lo rifiuteranno e abbandoneranno. La Sua sfrenata ambizione di controllare il popolo andrebbe in frantumi. Ecco perché è così infuriato e bracca Cristo, arrestando in massa i prescelti di Dio. Inventa ogni sorta di menzogna per calunniare la Chiesa di Dio Onipotente, ingannando molte persone che per questo temono di accettare la vera via. Molti familiari dei cristiani credono alle menzogne del partito e lo assecondano nel perseguitare gli eletti di Dio. Alla fine, andranno all'inferno anche loro per aver osteggiato Dio. Sì. Il partito è così spregevole e malvagio. Lo è davvero. Se non subissimo questa oppressione, se le parole di Dio non smascherassero la vera essenza malvagia del partito, anche noi ne verremo ingannati. Sì. Più ci pensavo e più vedevo che il partito è un demone che odia Dio e distrugge le persone. È l'acerrimo nemico di Dio. E io L'odiavo dal profondo. Ho anche giurato di abbandonarlo e rifiutarlo e di seguire Dio fino alla fine. Ho letto altre parole di Dio. Posso leggerle io? Certo. Questo passo. Il gran dragone rosso è nemico di Dio e Gli si accanisce contro. Perciò, in questa terra, chi crede in Dio subisce umiliazione e oppressione. Dato che tutta l'opera di Dio viene intrapresa in una terra che Gli si oppone, essa incontra ostacoli enormi. e occorre tempo perché le Sue parole si realizzino. Così, tramite queste, la gente subisce un raffinamento e ciò è un altro elemento di sofferenza. È arduo per Dio eseguire la Sua opera nella terra del gran dragone rosso, ma in tale difficoltà, Dio compie una fase della Sua opera, manifestando la Sua saggezza e le Sue meravigliose azioni, e rendendo completo questo gruppo di persone. Amen. Amen. Dalle parole di Dio ho imparato che poiché il partito va contro Dio ed è Suo nemico, chi come noi è un credente è destinato a soffrire oppressione e avversità. È stato stabilito da Dio. Egli usa tutti questi ambienti ostili per perfezionare la nostra fede e darci discernimento sul gran dragone rosso, affinché Lo odiamo e non ne siamo più fuorviati. Sì. Ma io non conoscevo la volontà di Dio. Ero negativa, non cercavo la verità e non traevo alcun insegnamento. Ero così ribelle. Dio è supremo. Eppure sopporta tale dolore e umiliazione solo per salvare l'umanità corrotta. Si è fatto carne ed è venuto tra noi per operare, sopportando di essere braccato di continuo dal partito e condannato dal mondo religioso. Tuttavia, Egli non ha mai rinunciato a salvarci. Ha continuato a esprimere verità e a nutrirci. Dio ha sopportato tutto questo dolore per la nostra salvezza. Esatto. Io invece, ora che stavo soffrendo un po' per seguire Dio, nel mio cuore non avevo vera obbedienza verso di Lui. La mia statura era così scarsa. A quel punto, ero sopraffatta dal senso di colpa e ho deciso che, nonostante mio marito, non avrei continuato a soccombere alle debolezze della carne. Mi sarei affidata a Dio per restare salda senza cedere a Satana. In seguito, anche se mio marito continuava a ostacolarmi, pregavo e mi affidavo a Dio e grazie alle Sue parole non soffrivo più così tanto. Lode a Dio. Se non avessi attraversato simili avversità e miseria, non avresti ottenuto questa reale comprensione. Sì. Decisamente no. Un tale beneficio è davvero l'amore di Dio. Sì. Saputo che avevo condiviso il Vangelo con una mia vecchia amica, mio marito mi ha rimproverata. La tua predicazione sta distruggendo le famiglie delle persone. Ti avverto. È meglio che smetti di evangelizzare i tuoi amici o non potrò più farmi vedere in giro. Ha anche pronunciato alcune bestemmie su Dio. Il suo sguardo di odio verso Dio mi ha indignata. Condividiamo il Vangelo affinché le persone accettino la salvezza di Dio, ma il partito capovolge le cose, inventa menzogne, dicendo che distruggiamo le famiglie della gente. È malvagio e spudorato. Proprio così. Da anni, il PCC osteggia Dio arrestando i credenti, facendo finire in prigione tantissimi cristiani. Molti di loro sono in fuga e non possono tornare a casa. Tante famiglie sono state costrette a separarsi. È il partito il colpevole della distruzione di tutte queste famiglie. Vedere mio marito incapace di distinguere il bene dal male e così colmo di odio verso Dio e i credenti, mi ha ricordato le parole di Dio. Chiunque non creda nel Dio incarnato è un demone e per di più verrà distrutto. Chi è Satana? Chi sono i demoni e chi sono i nemici di Dio, se non quelli che gli si oppongono e non credono in Lui? Perché un marito ama la propria moglie e perché una moglie ama il proprio marito? Perché i figli rispettano i loro genitori e perché i genitori amano i loro figli? Che tipo di intenzioni nutrono le persone? Non sono forse finalizzate a soddisfare i loro desideri? Amen. Le parole di Dio mi hanno mostrato la natura di ribellione a Dio di mio marito. Poiché avevo fede e condividevo il Vangelo, usava ogni mezzo per impedirmi di farlo e bestemmiava Dio. In apparenza, prendeva di mira me, ma in realtà odiava la verità e Dio. Non avevo mai visto l'essenza di mio marito prima di allora. Durante il nostro matrimonio era stato sempre premuroso e mi aveva appoggiata in tutto. Pensavo che fosse buono. Quando ha visto che la mia fede oppressa dal partito poteva minacciare il suo futuro, è diventato un altro ed ha iniziato a picchiarmi tentando di allontanarmi dalla fede e bestemmiando Dio. Era la manifestazione di un demone. All'inizio, mi ero illusa che fosse solo fuorviato dalle menzogne del partito e che se ne avesse acquisito discernimento non sarebbe stato così oppressivo. Ora sapevo di essermi sbagliata. Mio marito era un giornalista, conosceva la storia segreta del partito che inventava fake news, eppure continuava a credere a tutte le sue bugie. In essenza, era un demone che odiava Dio. Sì. Ho anche visto che era stato buono solo perché gli dessi dei figli e mi prendessi cura dei giovani e degli anziani della famiglia. Non era stato affatto vero amore. Ciò mi ha ricordato le parole di Dio. Credenti e non credenti non sono compatibili, anzi, sono opposti. Io ero una credente, seguivo Dio ed ero sulla retta via. Mio marito seguiva il partito. E il suo cammino si opponeva a Dio. Non eravamo sulla stessa strada. Vivevamo insieme e senza alcun rapporto. Questo comportava dolore. Fatta chiarezza al riguardo, tutte le mie illusioni su di Lui si sono dissipate. Vista la Sua essenza, hai smesso di sentirti illimitata? Sì. Con l'esperienza, impariamo che non è semplice comprendere la verità. Se non sopportiamo delle sofferenze, è difficile apprendere la verità e capire. È vero. Sì. All'epoca, non potevo leggere le parole di Dio né partecipare alle riunioni o svolgere il mio dovere. Ero estremamente infelice. In quei giorni, pregavo Dio con urgenza, chiedendogli una via d'uscita. Poi, una sera, mio marito ha detto, oggi sono andato da una cartomante per sapere della mia carriera e di quando il vento cambierà a mio favore. Senza pensarci, ho risposto, «Che credente che sei! Ti bevi quella spazzatura malvagia?» Di colpo, Lui ha cambiato espressione e mi ha dato un fortissimo pugno nello stomaco. Ha urlato come un folle, «Se insisti con la Tua fede, allora vattene da questa casa!» Ah, il dolore era tale che mi sembrava di avere gli organi fuori posto. Mi sono sdraiata a terra, stringendomi lo stomaco. Ho pensato che in quella casa mio marito mi opprimeva ogni giorno. Non potevo compiere un dovere né leggere le parole di Dio. Avanti di quel passo, non avrei perseguito la verità e sarei finita in rovina. Mio marito stava diventando violento e minacciava di cacciarmi. Non potevo più sopportare quel tormento. Ho deciso di lasciarlo, di liberarmi da quella prigione casalinga e fuggire da quella vita d'inferno. Quella notte, a letto piangevo per il dolore. Guardando la casa che avevamo costruito, pensando al nostro matrimonio che stava per crollare e a una famiglia bellissima distrutta dal Partito Comunista, mi sentivo sopraffatta. Soprattutto al pensiero delle nostre figlie. La maggiore era in grado di badare a se stessa, ma la più piccola aveva solo quattro anni e problemi di salute. Per anni mi ero presa cura di lei. Non eravamo mai state separate. Inoltre, mia suocera stava invecchiando. Chi avrebbe badato alle bambine se avessimo divorziato? Questo pensiero mi straziava il cuore. Ho pregato Dio, chiedendogli di illuminarmi e aiutarmi a capire la Sua volontà. Dopo aver pregato, ho pensato a queste parole di Dio. Dio Onnipotente dice Dio ha creato questo mondo e vi ha introdotto l'uomo, un essere vivente cui ha concesso la vita. Poi l'uomo è arrivato ad avere genitori e parenti e non è più stato solo. Fin da quando ha posato gli occhi sul mondo materiale, è stato destinato a esistere all'interno dell'ordinamento di Dio. Il suo alito di vita sostiene ogni singolo essere vivente per tutta la crescita, fino all'età adulta. Durante questo processo, nessuno si accorge che l'uomo cresce sotto la cura di Dio. Anzi, si crede che cresca sotto la cura amorevole dei Suoi genitori e che sia l'istinto vitale a dettarne la crescita. Questo perché l'uomo non sa chi gli abbia concesso la vita o da dove essa sia venuta, né tantomeno come l'istinto della vita crea i miracoli. Sa soltanto che il cibo è la base su cui la vita continua, che la perseveranza è la sorgente della sua esistenza e che le convinzioni nella sua mente sono il capitale da cui dipende la sua sopravvivenza. Della grazia e della provvista di Dio, l'uomo è totalmente ignaro, perciò spreca la vita da Lui concessagli. Nemmeno uno di questi esseri umani di cui Dio si prende cura giorno e notte si fa carico di adorarlo. Come da Lui pianificato, Dio continua soltanto a operare sull'uomo, verso il quale non ha alcuna aspettativa. Lo fa nella speranza che, un giorno, l'uomo si svegli dal suo sogno e improvvisamente comprenda il valore e il significato della vita, il prezzo che Dio ha pagato per tutto ciò che Gli ha dato e l'impaziente sollecitudine con cui attende che l'essere umano torni da Lui. Perché non li metti nelle mie mani? Non hai abbastanza fede in me? Oppure temi che io prenda provvedimenti inopportuni per te? Perché ti preoccupi costantemente dei tuoi consanguinei? Sei sempre lì a struggerti per i tuoi cari. Occupo un po' di spazio nel tuo cuore? Amen. Amen. Le parole di Dio sono molto chiare. Il nostro destino è interamente nelle Sue mani. Che le mie figlie crescano sane o meno non è nelle mani di noi genitori, ma è tutto determinato da Dio. Assolutamente sì. Le parole di Dio mi hanno mostrato che Egli è la fonte della vita umana e colui che governa i nostri destini. La salute di mia figlia minore, ciò che affronterà nella vita e il suo destino è predeterminato da Dio. Qualsiasi cosa Dio disponga sarà la migliore, la più adatta. Ma io avevo scarsa fede in Dio. Pensavo che per crescere sane le mie figlie avessero bisogno di me accanto. Non le stavo mettendo nelle mani di Dio. Ero arrogante e ignorante. Come madre, se sono al fianco di mia figlia, posso solo accudirla e nutrirla, ma non ho controllo sul suo destino. Ora, dovevo sottomettermi alle disposizioni di Dio e affidarla a Lui, abbandonare ogni preoccupazione, seguire Dio e svolgere il mio dovere. Capire la volontà di Dio è stato davvero liberatorio. Il giorno dopo, io e mio marito abbiamo firmato il divorzio. Quando il funzionario ha saputo che la causa della separazione era la mia fede, mi ha consigliato «Visto che si tratta di religione, una volta che avrà firmato, perderà suo marito, le sue figlie e la sua casa. È meglio che ci rifletta bene». A queste sue parole, ho provato una certa riluttanza. Anche se avevo visto l'essenza avversa a Dio di mio marito ed ero pronta ad affidare le mie figlie a Dio, il pensiero che la mia firma avrebbe significato perdere la casa, le mie figlie e tutto il resto, mi rendeva esitante. Una volta compreso il mio stato sbagliato, ho pregato in silenzio e poi ho ricordato queste parole di Dio. Sei un essere creato, perciò dovresti adorare Dio e perseguire una vita significativa. Se non adori Dio e vivi nella sozzura della carne, non sei solo una bestia dalle sembianze umane. Poiché sei un essere umano, dovresti spenderti per Dio e patire ogni sofferenza. dovresti accettare con piena fiducia la poca sofferenza a cui sei sottoposto oggi e vivere una vita pregna di significato come Giobbe e come Pietro. Siete coloro che perseguono il giusto cammino, che cercano il miglioramento, che si sollevano nel paese del Gran Dragone Rosso, coloro che Dio chiama i giusti. Non è questa la vita più ricca di significato? Amén. Le parole di Dio mi hanno subito illuminata. È vero, sono un essere creato e adorare Dio è un mio dovere. Rinunciare a tutto per seguire Dio e per seguire la verità è il giusto cammino di vita. Questa è la vita più preziosa e significativa. Proprio così. Dio è apparso negli ultimi giorni per salvarci è un'opportunità inestimabile. Poter accettare la salvezza di Dio e ottenere il nutrimento delle Sue parole è Sua grazia e misericordia. Sì. L'opera di Dio sta ora per concludersi. Devo mettere da parte tutto il resto e compiere il mio dovere. E compiere il mio dovere, altrimenti perderò la mia possibilità di salvezza rimpiangendola per tutta la vita. Ma mio marito ha creduto al partito, facendo di tutto per ostacolarmi, trattandomi come una nemica. Al solo sentirmi nominare Dio, mi picchiava. Con Lui non potevo leggere né svolgere un dovere o andare alle riunioni. Il divorzio era l'unico modo che avevo per seguire Dio. Vivendo in quel modo, non sarei stata un guscio vuoto. Sarei finita all'inferno e sarei stata punita con Satana. Di fronte ai fatti, mi era chiaro che mio marito e la casa non erano il mio pilastro. Erano strumenti, catene usate da Satana per rovinarmi. Solo Dio è il mio pilastro e solo Lui è il nutrimento della mia vita. Seguirlo e compiere il dovere di un essere creato è l'unico modo per essere salvata e avere una buona destinazione. Giusto. Ho pensato a Pietro che si liberò dai Suoi genitori per acquisire la verità. Rinunciò a tutto per seguire il Signore Gesù. Io dovevo seguire il Suo esempio, liberarmi dalle catene di mio marito e seguire Dio Onnipotente. Siano dato Dio. Così, ho firmato il divorzio senza esitare. Da allora non hai più avuto impedimenti nella tua fede e nel tuo dovere? Sì. Tornata a casa, mia figlia maggiore ha detto «Mamma, credere in Dio è la cosa giusta, ma vedere papà trattarti così, non volevo che tu soffrissi ancora. Fai bene a divorziare». Le sue parole mi hanno davvero incoraggiata. quando i miei amici hanno saputo del divorzio, alcuni sono venuti da me insistendo perché rinunciassi alla mia fede. Ho detto loro con fermezza e convinzione. Credere in Dio è la retta via. Mi sono presa cura di genitori e figlie, ma mio marito ha creduto al partito ostacolando la mia fede. Mi ha picchiata urlando e costretta a divorziare. Vivevo senza alcuna dignità, non ho altra scelta. È stato il partito a distruggere questa famiglia. Non avevano nulla da dire in risposta. Dopodiché, me ne sono andata e ho raggiunto coloro che svolgevano un dovere e ho iniziato a diffondere il Vangelo con i fratelli, a leggere le parole di Dio, a fare comunione e a godere del nutrimento della verità. Mi sentivo serena e in pace. Dopo essere stata perseguitata dal partito e così oppressa da mio marito, ho visto il volto malvagio del PCC che odia Dio e distrugge le persone. È davvero l'incarnazione di Satana e l'acerrimo nemico di Dio. Lo disprezzavo dal profondo del cuore. Ho anche acquisito discernimento sull'essenza avversa Dio di mio marito e mi sono liberata dalla prigione di quella casa. È stata la salvezza di Dio. Sì. Lode a Dio. Dio sia lodato. 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 Grazie.